Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video! Ognuno sono qui a San Siro per andare a guardare la trentesima giornata di Serie A tra Inter e Fiorentina Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti! Grazie a tutti! Bravo! Grazie a tutti! 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 Sì! 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 Luca sta pericando, la parella neanche so' è alta. Proximo video. Dai, dai, dai. Grazie.